di tutti i due lanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui sempre con erenz per una nuova puntata del market watch per vedere effettivamente cosa è salito e cosa è sceso perché diciamo questa settimana con gli annunci che ci sono stati ci sono state molte carte che sono specate detto questo però ovviamente prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store il miglior negozio per l'acquisto di tutto c'è se volete supportarmi avete il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione inoltre se volete liberarvi di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo erenz andiamo a vedere bene ragazzi partiamo con la roba drytron allora queste carte non hanno senso vi ricordate genesis impact un set uscito nel lontano 3 dicembre 2020 bene le carte drytron da quel giorno a questa parte non sono state mai reprintate a parte faffnir che vabbè usciva da espansione classica quindi è stata reprintata netin ma drytron nova e le carte che vedremo dopo non hanno una reprint da ben tre anni quindi ovviamente da tipo 12 euro che costavano ragazzi potete vedere che c'è stato un incremento lieve lieve molto lieve di prezzo quindi adesso se volete un bel playset vi dovete far svena e pagarlo 30 euro l'uno conviene comprarlo adesso ni nel senso se volete giocare a drytron considerando i nuovi supporti io aspetterei un pochino perché ci troviamo credo nel momento di maggiore hype di questo mazzo quindi aspettate testatelo vedete se ne vale effettivamente la pena che i supporti sono carini ma non sono credo metto le mani avanti da t1 ve la dico così poi vedete voi altra carta drytron che ovviamente è salita è meteonis ragazzi anche meteonis da come potete vedere carta che si vendeva sui 5 4 euro è spiegata un pochino e 18 euro un playset erenz non mi pare male per giocare dei gundam fatti male perché non sono dei veri gundam no non è vero beh però mi ricorda un po i vecchi prezzi di quando di quando era uscito nel senso all'epoca aveva un senso più che altro a questo punto più che farvi svenare con 18 euro l'uno di un playset cioè vi prendete i primi tre singoli e state a posto è accettate la reprinte giocate su un simulatore cioè se lo volete giocare in real c'è se arriva di tardi tutto qua e credo adesso andiamo all'ultima che racconi questa va beh ha fatto un pochino il suo da due euro è passata a cinque però nel senso ora fino ci sta beh oddio oddio allora nel senso ce ne sono sette sul market quindi è l'unico playset è quello a 10 però nel senso se tu te prendi due di quelli da 4 e 30 e uno da quelli da 4 e 50 li paghi 8 9 euro e sicuramente sono meno di 10 più spedizione sì 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 a meno di 30 euro in qualsiasi caso penso che siano tipo 21 il fatto è che se tu ci fai caso per tutte e tre le carte sì ok le carte stanno a queste cifre ma a parte qualche pazzo che ok si è preso male non si vende cioè nova venduto più alto 21 euro e probabilmente era un playset non c'è nessuno che ve lo compri a 30 infatti ragazzi in american l'ho messa 25 perché lo so che a 29 non li vendo cioè non c'è santo che tenga la gente non si vuole fa in culare ma in nessuno dei casi so se vi piace però non mi sembra troppo worth andando avanti abbiamo una bella cartina per tempai ovvero andata di calore it wave stbl c'ha solo un reprint che fa schifo al cazzo perché la speed duel è una carta da 10 euro cazzo ero rimasto al fatto che fosse a realmente intorno ai 5 6 euro ma è ah no aspetta non hai messo delle lingue umane aspetta vediamo vediamo se io la compro da lei sono ricco ragazzi questa carta ha possibilità di subire altri reprint sicuramente perché speed duel non è un reprint effettivo considerato generalmente troppo da konami ce la possiamo trovare super nell'ots 25 9 su 10 o come come tutto potrebbe essere nella reality collection ma in quel calderone può esserci tutto e niente in realtà nel senso può esserci questa come può esserci data gelida oh sì sono sono interdetto per il fatto che questa roba valga 10 euro non me l'aspettavo aspetta non l'avevo visto se tu vuoi un play set lo devi comprare dall'inghilterra non ve lo consiglio ragazzi perché vi fate rubare i soldi e poi non spedisce in italia non c'è un play set bene 15 euro l'uno american dalla germania quindi 15 30 45 60 perché sono 15 di spedizione no sono 7 20 adesso hanno messo un metodo di posto in più perché secondo me non riuscivano a vendere all'estero più di tanto perché 15 euro è una martoriata sì cioè i tedeschi comprano da noi per quelli inglesi perché spendono di meno ed è per quello che ho messo solo tracciabile alla germania cioè vabbè ragazzi guardiamo anche quella speed duel proprio perché ci vogliamo fare del male o le carte che non piacciono a nessuno perché hanno scritto qui qualcuno che conosciamo si è fatto un bel plus prendendo la speed duel non sono io e non sei tu sì sì no ma il fatto è che le persone sono disposte a pagarle perché non esiste che non esiste quindi sì è una carta fortissima è sempre stata fortissima godo aspetta poi non esce da normale speed duel esce da tournament pack 5 speed duel quindi non è neanche da prodotto normale ecco perché i negozi che hanno gli speed duel adesso possono aprire i tournament pack perché tanto sono abbastanza vecchi quanto quando è uscito questo tournament pack il 5 come minimo ieri 9 marzo 20 no un anno lo possono usare no non ci voglio crede quanti quanti ots sono usciti 5 è l'ultimo non credo perché bisogna aspettare almeno due ots penso abbiano lo stesso ratio degli ots normali quindi effettivamente sì considerando aprirvi quest'anno ma considerando che alesemente nessuna fumetteria fa tornei di speed duel sono pieni di questa roba che dicono ah soldi 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 sì esatto e va bene finalmente qualcuno potrà comprare la carta igienica anche o allora abbiamo drago d'assalto agli nere io su questa boh nel senso non sei informato allora invece te lo spiego molto facilmente uno ci scrive tu blackwing anche se winged tendenzialmente queste carte sono straforti e poi ho visto che c'è una combo che utilizza sia lui che il drago alinere però in america sta salendo già da qualche settimana quindi mi stupisce troppo so che la versione ultra in realtà sta addirittura di più la secret perché la first print oggi in teoria ovviamente da noi sarà mai così no in america sta tipo a 3 dollari e mezzo forse allora quello secret sta di più in america comunque tipo a 6 dollari non ho idea allora comunque vorrei una versione ghost rare vabbè mi sembra totalmente inutile comunque la motivazione che volevo dare io è che ho sentito da un americano è che c'è una linea che può usarla tempai però è molto secondaria è vero non è vero vediamo io ho roba del genere non le ho viste quindi io vi riporto solo quello che ho sentito andiamo avanti abbiamo ragazzi in questa settimana dove praticamente ci siamo fatti tutti i palesimenti cazzi nostri sono usciti nuovi supporti burattino ornese praticamente uno dei mostri che è la versione burattino del protagonista del personaggio di zexal che lo usava e tutto è spagato in una maniera senza senso perché ovviamente ragazzi tutte le persone che sono entrate nel mondo di yugi grazie a zexal e fidatevi so veramente tante se lo vogliono montà quindi tutti affasse le sega due mani è roba vergognosa partiamo ovviamente adesso da numero 40 numero 40 vabbè questo è da jump 18 euro l'uno e vediamo quanto si vendeva questo è da jump vabbè quando questa roba è uscita da jump volevi fucilarti le palle era un mazzo fico sì però non le jump cioè che cazzo 20 euro mamma mia sì erano alternarsi di 8 15 8 15 8 15 questo era dall'estero questo era dall'italia perché siamo ovviamente di figli di puttana ma dettagli eh mentre non me la prendo con nessuno vediamo adesso attento attento che se no risulti cringe è vero è vero dovrei fare un content serio e non prendermela se qualcuno insulta il mio gioco di carte gna gna e attenzione all'ultimo video comunque allora andiamo a vedere vabbè altre versioni eh quella da ct quella da ct ci sta che comunque costi poco perché la ct è in francese non costa un cazzo però vediamo italiano inglese perché comunque noi siamo un po tossici su queste il grafico parla chiaro nel senso al diffuso cioè anche in inglese sta a 2 euro che piaccia o meno in italiano in italiano ah beh allora ragazzi in questo weekend si fanno i soldi weekend questa settimana state probabilmente seduti su una cassa d'oro in questo momento perché a fine market watch capirete anche il perché ragazzi iniziate a svolcare non comprate resti pezzi vendetele questi market watch servono principalmente a far capire alle persone che possono avere delle cose buone perché non parliamo delle classiche carte da meta ma tutta robina secondaria di che non si cura nessuno quindi va bene soldi abbiamo dei soldi super da cp sì da cp da ct sarebbe bello avere dei soldi da ct ed esiste common da led 5 che comunque no no però aspetta dall'italia in italiano eh vediamo eh l'italia itang beh allora si può fare un bel buy out di quel 7 per da danni slash e in italiano sta quattro è ma porco di quel diamo avanti va bene andiamo avanti dai va bene ci chiamiamo scalp market andiamo avanti prima 4 euro per la common è troppo ve lo dico ve lo dico non compratela nel senso raga va bene led 5 tutto quello che volete e che qualche poi non mi ricordo neanche quale sia il led 5 penso sia quello di là di là dopo vedremo dai andiamo avanti abbiamo numero 88 o numero 80 non esiste non esiste in italia in realtà è una di quelle carte che ho visto relativamente poco proprio di base perché non è da jump anche questa sì sì no no sono tutte da jump e ho messo anche fuori italia perché comunque non c'ha senso questa roba e vabbè questo non è salito più di tanto classic cp per ora per ora per ora diciamo che perché questo è davvero forte dall'estero apprezzi un pochino più umani cioè è un pochino salito dall'italia no no è tutto questo è tutto il mercato ce ne sono tipo 73 bene bene compresi anche quelli sotto sotto l'nm e quelli che ci si passa sotto con banco va bene andiamo su cd 10 per capire effettivamente se ha fatto come l'altro burattino sì 5 euro va vale quasi di più del super da datin che che da jump io in sto momento allora prenderei qui quei due da 10 euro in americans e gioco sto mazzo perché tanto sta roba da jump schizza 20 euro no no a parte che schizza un meno sì è da jump è da rivista esclusivo quello che tiene si usciva dai team 2013 ma quale quelli di redox e siamo ancora pieni di sta roba eh sì beh pieni non quasi non proprio è nel senso sì ultimamente ne sono stati venduti tanti e sono iniziati a salire però nel senso è roba che comunque si può ancora trovare eh invece la rivista jump è un pochino più complicato soprattutto se sta in italia non sta in america in america dei team di redox ce n'hanno una vanga allora andiamo avanti a altro burattino questo lo conoscete tutti ragazzi ce lo siamo portati avanti mesi se non anni con despia e grazie a dio ho avuto una reprint e però per quanto abbia avuto una reprint non meno di un euro è giusto mi sa che mi sembra che la carta una delle più forti per far combare quel mazzo quindi ma è più che altro perché è una delle carte con cui ci facevi la lock è questo il fatto ma vabbè c'ho un amico che mi ha detto che vuole montarsi burattino aronese e vuole beccarsi un despia solo per farsi fare la lock e utilizzare il mostro che gli dà per fare la combo che locca l'avversario eh ha fatto un plot twist incredibile spero gli riesca perché voglio sapere come va a finire se ovviamente gli tira un cazzotto in bocca allora altro burattino arnese abbiamo c40 classico sì almeno sempre stato su quella cifra non è vero non è vero che si vendeva 75 centesimi e non tanto perché io le abbia ma perché gimmick puppet è stato uno dei mazzi rogue che mi son trovato contro e anche a giocare nel passato quando c'era premium gold o comunque quando erano appena uscite era divertente giocare dei mazzi che non erano tipo i soliti quattro mazzi messi in croce a parte fantasma trucco hai visto quanto costa play set sì non si ne giocano tre non esiste poi vabbè sta a quattro euro quattro no quattro il primo però punta sui sette mettiamola così quello è il prezzo più vero sì tra i cinque gli otto euro è il prezzo giusto per sta carta tanto lo sappiamo quando annunciano tante cose nuove tante cose belle probabilmente ti fanno un bellissimo set dove le carte tipo questa vengono riprintate ci può stare ho altro numero c88 che sono tipo tutti imparentati uno è il normale un lc e questo sta un pochino meno però è una carta da almeno 5 euro e si vendeva ovviamente a 0 69 in qualche lingua però ovviamente attualmente in italiano sta a 5 euro in italiano sta sui 2 euro me lo ricordo perché li ho venduti cioè gimmick puppet è proprio un archetipo che piace alle persone penso per zack sal che nell'anime quello è ovvio vabbè e niente ragazzi vi ricordiamo di traire fuori la roba da gli scatoloni esce anche dalle ds3 common è vero avevo totalmente cannato probabilmente anche quello di prima ma lo è ignorato acce dai 25 centesimi di alzare almeno 4 euro e 90 probabile adesso controlliamo no adesso non voglio rubare soldi alle persone andiamo avanti dai come fa qualcun altro andiamo avanti numero c15 inizio a sudare è ok va bene e il bravo e il nostro l'abbiamo fatto ragazzi è colpa mia se si sono aumentati di prezzo scusa no ragazzi non è colpa tua è colpa del mercato cioè io non l'avrei alzati se nessuno gli alzava però nel senso da 50 centesimi a troppo perché ragazzi è una carta da 8 euro adesso bene 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 andiamo avanti oh il più famoso oh ma davvero è forte di tutti che esiste anche da mago e da c14 in tedesco probabilmente da c14 allora questo non è salito secret probabilmente perché ha 15.000 euro per ora per ora sta salendo il grafico parla che nelle altre lingue sta salendo quindi domani in settimana vedremo dei bei bump anche da parte nostra sicuramente non lo so non lo so su questo non ci credo tanto poi c'è vanni games che il metà 20 centesimi quando si vende palesemente a 50 ma ok chi siamo noi per dirgli di non venderli a 50 no beh si si fai soldi sti cazzo si si però nel senso le altre sono spiegate non credo che spieghi pure lui soprattutto perché come abbiamo visto ha no vabbè c'ha una reprint vera e una reprint in tedesco forse non è così forte all'interno del mazzo poi nel senso non l'ho mai testato quindi non vi saprei dire è abbastanza forte da quello che ricordo boh era il meno mostro del protagonista si però tipo ne sono usciti anche altri dopo quindi non so se poi la combo è rimasta tipo quella del 2016 non credo sia rimasta quella del 2016 comunque eh appunto io ci ricordo molto molto time wizard probabile dai allora oh andiamo oh adesso andiamo ai mostri perché i mostri daranno gioie abbiamo bambola tetra bambola tetra non lo so non credo sia spaicata perché non credo si giochi ma in italiano non esiste non lo so nel dubbio chippiamo un po' perché se no sembrava un market watch del burattino arnese poi andiamo un po' più veloci su queste cose che non valgono dei solli veri beh però effettivamente in italiano non esiste più eh non vorrei dire puro eh non c'è il filtro italiano ah ok ok bene allora io ce ne ho due in italiano le metto a 50 euro l'una come minimo come minimo vabbè ovvio 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 vabbè a parte tutto potete vedere i ragazzi che è salita da 10 centesimi che stava a un euro e qualcosa inglese poi vabbè abbiamo il dumpty anche questa ovviamente è un po' salita a livello di vendite non a livello di prezzo prezzo ancora totalmente accessibile quindi ok ci sono sempre le print comuni dalle 5 questo non è stato reprintato questa è una carta da tenere d'occhio ancora sicuramente non so quanto si gioca in realtà perché comunque non è salita di niente no no secondo me non è così forte 50 centesimi 50 centesimi un euro dipende non credo sia una main card adesso come minimo nei commenti ci futilano sì sì no le main card saranno quella che vedremo dopo e poi c'è una da led 5 che è un po' esotica allora abbiamo eh quella forte il link ovviamente la chimera la chimera cazzo me l'hanno incarellata ah no è il primo prezzo ah 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 vabbè nel senso è in italiano che costa la mia inglese quindi vabbè ci può stare sì no no ti stai illudendo ti stai illudendo perché sai di perderci dei soldi che è una roba schizzi in tutte le lingue a 3 euro no io non ho visto niente non c'è niente è una carta che sta a 50 centesimi 10 centesimi il primo da bastardo di non sì sì il primo prezzo sì ragazzi è una carta a 3 euro senza girarci intorno cioè i primi playset stanno a 2,50 in inglese forse dall'estero l'ho pagato un tantino meno ma c'è la spedizione dipende poi da chi trovate cioè l'Olanda ha prezzi accessibili la Germania un po' meno la Grecia è accessibile anche quello andiamo avanti oh 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 non capisco perché dall'estero costi tipo 5 centesimi quando tu vai in Italia secondo me il problema di questo gioco sono proprio gli italiani ah allora sì una piccola parentesi su determinate carte non sappiamo non sanno mettere i prezzi Perché sta roba solo perché in hype la stai aumentando di prezzo Quando poi vai a vendere carte vere Tipo oh figata sta roba si vende mediamente a 2 euro e 50 E capita lo stronzo che non sa vendere Non sa perché c'è in mano delle carte di Yugi 30 centesimi Ma se va bene vendile a 30 centesimi Questa non è una carta da 5 euro Perché questo che l'ha tirato a 5 euro E non è una carta da 1 euro e 50 Perché è Yatta a due vendite e ha messo Mint Quando mettono Mint sul market Spoiler non è Mint Non è neanche NM Ma il Mint non esce neanche dalle buste Cioè è una carta da 1 euro Visto che le vendite più alte stanno a 1 euro E probabilmente Eh ma la vuoi in italiano allora devi pagare Ho sentito sto ragionamento per anni e anni e anni Allora sei stronzo No no allora ci sta che comunque in italiano Se è più alta il valore della carta Si fa un pochino di più Ma qua non esiste Cioè 5 euro non esiste se dall'estero l'inglese costa 50 centesimi Cioè è una carta Cioè poi oh Ce ne fossero 30 di copie italiane Caricate tutte a 5 euro Ha un suo senso Ma se c'è uno che la vende a 5 euro Non è un ragionamento Cioè è lui che decide il prezzo Non è la community Questo che vorrei far capire Poi oh Se anche Ayub la mette a 5 Yatta la mette a 5 Yu-Gi-Oh! Cgc la mette a 5 Ok Ayub è un grande Ci compro ogni tanto da lui Ha un grading giusto Ok Compra ragazzi Ci ha dato a casa L'ho dato a casa Fantasia Store Ha cancellato la La collab La collab dopo sto commento Allora Oh Aspetta Ah Manca una cosa Barbecue Sì Ragazzi ci stavamo dimenticando di lei Lei Diciamo Common Sta a un prezzo accessibile Ma andiamo a vederla Verso la versione foil Che usciva da LED 5 Francese non la vuoi Non Non credo di volerla Usciva da questo bellissimo prodotto Quello di Maric Che comunque Secondo Ecco poi ci stanno tutti i burottini ornese Ragazzi questo è un ottimo prodotto Se ve lo volete montare Perché avete tutte Le carte common Poi Boh Sta a voi vedere C'è un caliber Cioè alla fine Se lo trovate su Fantasia Store Compratelo ragazzi Io ve lo approvo Comunque A parte quello Non è un prezzo Non è un prezzo 17 euro Non era Non era reperibile sto box Perché c'erano i Malicious Bane Là dentro E la gente era andata in hype Per quella roba hero Che stava troppo Però nel senso Non è un prezzo Perché si vende sui 2,50 Poi vediamo un attimo Anche dall'estero Può darsi che mi sbaglio Ed è specata In tutti i posti del mondo Però Però Dubito Cioè almeno la vedo così eh Toh se vuoi un playset 5 euro Dalla Grecia Che lo dovesse pagare 7 Però un playset No Dalla Grecia costa davvero Tipo tra i 10 e i 15 euro La spedizione Io non ordino mai Dalla Grecia Poi ci mettono troppo Mi sembrava Fosse meno Ma vabbè Ok comunque ragazzi Altra carta Che cosa Fortunatamente Tutta la roba Jimmy Puppet È stata ripintata In tempi non sospetti Perché altrimenti Non era montabile il mazzo eh Andiamoci conto Ma già ai tempi Non era montabile Perché tipo Già costichiavano Perché è un mazzo Che piace dell'anime E quindi la gente Lo comprava di base Proprio me lo ricordo Giocato come Rogue Adesso non spararle Troppo grosse Nel senso Però era a prezzi accettabili C'era qualche Xyz Gold Secret Che costava Perché non aveva Reprint da anni Però tutto il resto Era Ok immondizia Che tu compri Perché ok O ce l'hai a casa Perché hai sbustato Cacciatori di numeri 15 anni fa Quando il mio amico Quindi Quando il mio amico Si è montato sto mazzo Ci ha speso 30 euro Nel 2016 Che era completo Max Rarity Così che non c'era ancora La barba E la biscua Era il 2017 Ora non mi ricordo Erano troppi soldi E se l'hai fatto Comunque con tutte le carte American Nel senso Ora con 30 euro Dubito che te lo fai Ma se l'hai preso La roba da jump E vabbè Quei tempi quelli Ok però Stiamo parlando del 2016 Sono passati quasi 10 anni Vorrei ricordartelo Sì sì ma A rapporto Era comunque un prezzo alto Nel senso Era comunque alto Un mazzo Di merda Al tempi 30 40 euro Perché lo vuoi American Cioè non era un concetto Con 200 euro Mi prendevo tutto Lightstorm Max Rarity Con TGD Ultimate Era un povero Tutto qua Questo è il segreto ragazzi Andiamo avanti dai Su Oh andiamo adesso A un mazzo molto interessante Ovvero Moschetto Magico Ma perché la roba Moschetto Magico è salita? Le carte Magical Masketeer Sono salite perché C'è Ci sta per uscire Quella spell della Madonna Che si chiama Finsmith Tractus Che aggiunge Demoniluce alla mano Credo Sì E niente Magico Moschetto È fico È un mazzo che è sempre piaciuto E esce solo la Spirit Warriors Nella versione Max Rarity E tipo Alcune carte Sconsolo da Da SPVA E A parte i mostri Che sono reprint Da GFP No Non è GFP Uno è Duo Poi nel senso Ah ok Vabbè Perché si giocheranno insieme E effettivamente Il mazzo risulta veramente forte Poi questa carta Verrà sfruttata anche Per un altro archetipo Che vedremo ovviamente dopo Ma andiamo a vedere un attimo Le carte A quanto sono arrivate Perché effettivamente Non è più budget Poi vedremo anche da Duo Se è un pochino più accessibile Allora abbiamo Beh per ora Per ora da noi sono Un prezzi umani comunque Nel senso In America Stanno già Cifre senza senso Folli Tipo 20-25 euro La spell Questa sta a 15 dollari Sì no Gli americani Sono un'altra razza Non capiscono niente Di carte Le carte italiane costano Le carte americane Per gli americani Non hanno senso Cioè Costano Soprattutto No Allora Non tutte le carte Le carte che vanno in hype Le carte che vanno in hype O stanno a 50 centesimi O stanno a 32.000 euro Non esiste un range di prezzo intermedio Assolutamente Vero Vero Questo lo posso confermare Ma questo è dato dal fatto Che loro hanno inventato Il collezionismo delle carte Tramite il baseball E la carta famosa Che si chiama Black Lotus Con l'alpha di Magic Ok Va bene Non c'entrava niente Però Allora Abbiamo ultima resistenza Che da 50 centesimi È spaicata a 4 euro Grande Bellissimo 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 Oh abbiamo A godanzante Ah che caro ad godanzante È salita Bella Sì sì Da 56 centesimi A 1 euro 85 Non so poi se è ancora salita Diciamo che i playset No vabbè Riesci a prenderlo 50 centesimi 50 centesimi Forse Chi è riuscito a venderla A queste cifre insensate Aveva tutto È quello il problema di fondo ragazzi Cioè I venduti alti Sono dovuti al fatto Che probabilmente Sono negozi o privati Che comunque hanno Tutto l'archetipo E quindi le persone Ovviamente per non fare 72.000 spedizioni Lo comprano comunque Vabbè Andiamo avanti Abbiamo Oh anche Zakiel Che a parte Delle hype Il 17 di gennaio Ha 2 euro Non hanno senso La carta è ancora A prezzo Abbordabile Non è giocato Non è il Magical Mask Più forte Sfigato Questa Questa è quella Da tenere l'occhio Più di tutte Perché Non ha senso Quanto stai in America Così tanto Per farci un'idea 20 dollari Sì Le ammetterei A mettere A 4 Sì 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 Stanno salendo Di giorno in giorno Neanche ti rendi conto Che stava a 3.50 Adesso sta a 5 euro Incredibile Vedi Vedi che faccio bene A tenermi il mio stack Di Magical Mask Che ti rifermi ancora Qualche giorno Ragazzi I venduti arrivano A 8 euro C'è il grafico E non è una Picchi casuali Ce ne sono tanti Ma Cerchala in inglese Facciamoci del male Cerchiamola in inglese O in 5 minuti La carta è già salita Di 2 euro Insensata Questa cosa Bene bene E È da Da capire adesso Più che altro È una delle carte Di Moschetto Magico Che non ha Reprint Ce n'ha una sola Quindi è normale Che secondo dopo secondo Aumenti di prezzo Eh sì Incredibile Non me lo sarei mai Aspettato Diamo avanti Abbiamo una Topa È una topa Di un archetipo Che si gioca Incredibile È tutto quello Che serve Per aumentare Il prezzo di una carta Non si sa perché Ragazzi Da 60 centesimi È spaiata 3 euro e 50 Incredibile Non me lo sarei mai Aspettato Pure la mia Neanche Non la stavo Neanche guardando È già salita Assurda Eh vediamo dall'Italia Quanto stanno Così tanto per farmi Un'idea I primi playset Stanno a 1 No forse un po' troppo Mi vergogno un po' Di averla messa 3,50 Vabbè vabbè 1,99 Mi sembra un prezzo Più che onesto Più che altro Perché c'è C'ho anche Altra roba Moschetto magico Quindi il prezzo è Cioè ha un suo senso Ovviamente ragazzi Cazzata a parte Comunque è una carta Che ha anche la reprint Da duo Quindi è molto Più semplice da trovare Sta a un prezzo Totalmente accessibile Cioè se non volete Farvi derubare Sicuramente Se volete montare il mazzo Dovete per forza Dare priorità alla magia Che la magia Avendo monoprint Rischia veramente Di salire ancora di più Tutto qua Andiamo avanti Abbiamo ovviamente Calamity Ma è una super E non sta Palesemente a niente Abbiamo adesso Link Che lui è un problema Come la magia Perché è da monoprint Usciva in Battle of Legend Non è stata reprintata In Battle of Legend Capitolo 1 Quindi questo Ne ha aumentato Drasticamente il prezzo Ragazzi Andiamo a vedere un po' Ah In escargot Costa tipo 20 centesimi Che neanche c'è un playset In realtà Primo playset Orcocan 1 euro e 50 Orcocan Ah non vende dall'Italia Poi no 2 euro e 50 Ma ragazzi Per farvi rubare i soldi Da un venditore tedesco A questo punto La prendete dall'Italia In italiano Non francese Se ne frega Forse Mi farò rubare i soldi Dal francese Perché se devo comprarla In italiano No se devo comprarla In francese Da un italiano A 6 euro l'una Forse Forse Ma mi fai vedere Per favore in inglese Quanto stanno Non c'erano filtri Non solo dall'Italia Perché hai messo dall'Italia Non c'erano filtri Questa è una cosa Molto interessante Ok Mi sa che conviene Comprarla in italiano Ok Sì O in francese No no Sì in francese Se volete spendere poco E giocare in escargot Compratela in francese Se ce li avete nel bulk Vendeteli Sì O giocatelo Perché è un mazzo Che dovrebbe essere interessante Almeno da come ho visto Andiamo avanti Oh Ah ragazzi Vi ricordate Quando abbiamo parlato Di Yubel Nello scorso episodio Bene Perché non sapevamo Effettivamente Se fossero solo hype O altro Effettivamente Mi è stato detto Che si gioca Con Unchained Quindi Questo coso Che io ho venduto In tedesco a poco È Spicato di nuovo Perché Konami Ha deciso di Non reprintare Unchained In nessuna versione E quindi Ha toccato di nuovo I 23 euro Forse più di quanto Aveva toccato Inizialmente Quindi ok Grazie Konami Grazie per avermi fatto Perdere soldi Se lo avessi Annunciato prima Il reparto Yubel Forse avrei fatto Più soldi di quanto Ce l'hanno fatti Di base Perché sta a 18 tedesca Stessa cosa Ovviamente anche il link Il link Ho una bellissima storia Ragazzi Per errore L'ho bagnato Quindi l'ho venduto A 2 euro e 50 Perché so strutturare Per errore L'hai bagnato Cosa ci hai fatto Con quella carta Maledetto porco Avevo questa bellissima borraccia La stavo per mettere Sopra al tavolo Ho fatto così Ha toccato La scrivania a caso E ho visto uno sgrizzo D'acqua finire su tutte le carte In quel momento Sono morto dentro Perché erano carte listate Quindi ho dovuto Di tirare fuori ogni carta Guardare la controluce Un momento Tremile della mia vita Posso immaginare Sì sì E ovviamente Adesso venduta a 2 euro pur Sta a 15 euro Ma va bene Chi sono io Per fustigarmi in continuazione Diciamo che Il fatto è che questa carta Sia salita Ha rivalutato un po' Dune Perché diciamo Era un po' caduto nel dimenticatoio E il set effettivamente Veniva lanciato Viene lanciato anche adesso Però almeno c'è una carta Un pochino più interessante Quindi ragazzi Se volete acquistare Dune Per sbustare lei E Revolution Synchron O Revolto Non ricordo Vabbè Fra link e il codice sconto Su Fantasia Store ragazzi Andiamo all'ultima magia Unchained Che era una carta da 30 euro Questa che ovviamente è scesa E che ovviamente Potrebbe essere salita Non so se No Non così tanto È rimasta sui 10 euro Esatto E niente Solo il link effettivamente Ha avuto un suo hype Sfortunatamente Andiamo avanti Andiamo a un'altra carta Ritual Beast Che mi è stata fatta presente Sotto nei commenti Ovvero Rampengu da Astral Pack Ovviamente Escono i supporti Ritual Beast E quindi Che fai Non hype di qualsiasi cosa Non abbia una reprint O abbia una reprint Da Astral Pack Turbo Pack O qualsiasi altro set Dove le super Sono interessanti Ovviamente sì Mattex sarà molto contento Di questa cosa E si un botto 4 euro l'uno 3,50 Sì Rampengu è comunque Uno dei più forti Quando giocavo Ritual Beast Minchia Voglio giocare Ritual Beast Di nuovo Diciamo che Nel pratico Non è che sia Paicato Già da dicembre Costava tanto Però Il fatto che Escano dei supporti E siano decenti Sicuramente Ha reso la carta Molto più appetibile E interessante Da parte del pubblico Poi vabbè Andiamo avanti Abbiamo Eh Roba Trickstar Questa ragazzi Me l'ha regalata Venduta a Erens Diciamo è leggermente Sì me l'ho regalata No no Te l'ho pagata Te l'ho pagata Non puoi dire che me l'hai regalata Me l'hai pagata 14 euro Cosa vuoi Eh vabbè Che colpa mia Se Konami decide Di fare supporti Trickstar È un mazzo Sì è colpa tua È un mazzo Con delle ragazzine brutte Cioè ragazzi Io non giocherò mai Trickstar Non mi vedrete mai Neanche portare una decklist Sul canale Se non viene qualcuno Con una decklist incredibile E basta Cioè Ha toccato i 30 euro Va bene Non credo Si salirà ancora Perché Mi sembra già Eccessivo il prezzo Che ha attualmente Vediamo adesso Le altre carte Perché Almeno ci facciamo un'idea Boh Candina Non c'è Non esiste ultimate Sì Però sta a 2,60 Il playset Ci sta Non ci sta Vabbè Non ci sta Nel senso Non esiste ultimate No Lei no Solo l'altra E costa un botto Quella di Starpack Strano L'abbiamo visto con le melodie Su l'altra volta Che Starpack Può arrivare a prezzi Tenta senso Ma è perché La gente dice Che schifo il set E non lo apro Sai che è pieno Di Starpack In circolazione Oh mio dio Potremmo fare dei soldi Andiamo nelle edicole Svaliggiamo tutto Come ha fatto methods E ci facciamo inculare Con i pacchetti Ristigillati con lo scotch No no Povero Poverino Mi dispiace Però ragazzi Si farà un video In merito a questo Dove discuteremo Io legherò il perché Esiste sta cosa Perché la conosco Dal profondo Dell'antro Del male Sì sì Perché non è possibile Che tu vai in edicola E compri un pacchetto Ristigillato con lo scotch Quindi quando li comprate Ragazzi Fate attenzione Allora Andiamo avanti Con le altre Trickstar Abbiamo Truccastella Cuore Cremesi Vabbè Non ha senso È una carta da 2 euro Io so sicuro Che se vado Nell'estero Ehi Cazzi Costa 92 centesimi Ehi Ehi Cioè Ci sta a prendere Quella dall'Italia A 2 euro Perché ovviamente Mi costa un po' La spedizione Il grafico Parla chiaro Cioè Non è una Non credo E non voglio Perché È merda Cioè La roba Trickstar Nel pratico E questa è da Starpack Abbiamo già visto Quella abbiamo già vista A nessuno Frega un cazzo Di questo archetipo A nessuno Cioè Tu si criou Che c'è una 16 American E non le ha ancora vendute Cioè Di cosa stiamo parlando Dai Su Questa può essere un po' salita La Savage Strike Che non ha ristampe No Perché si vendeva sempre A 2 euro e 50 Si è salita a 3-4 euro Però Ragazzi Stiamo parlando di Trickstar Penso ci sia robe più carine Da giocare Ultimamente E il palcoscenico Ecco Stavo pensando a questa Che comunque Era forte Perché si usava In combo Con Dragoon Io non ne so niente Ragazzi Prendete le sue parole Come vere Se volete Io non mi accollo Di nessuna cosa Cosa? Quando è uscito Dragoon Sta roba C'era una combo Che usavi la candina E in qualche modo Tiravi giù Dragoon Non mi ricordo il perché So solo che li vendevo A quel prezzo Ma tipo nel 2021 Vabbè Non è cambiato il prezzo È rimasto sempre costante Anche se No 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 Il prezzo più alto Vabbè Existe pure Common E ovviamente Da Starpack Costa tipo troppo Ma porco Non esiste Questa cosa Ma signore dio Mamma mia Te la compri ultra Te la compri ultra Allora Caro ragazzo Che non ti conosco Mi spieghi perché Il 20 di novembre Hai deciso di spendere Probabilmente Perché era un playset 18 euro Più spedizione Per 3 trickstar Light stage Star foil Perché probabilmente Sono in inglese Valgono più in inglese Non ha senso Non ha Non ha senso Vabbè Sì dai C'è Outpost Che ce li ha 4.33 Forse sono in prima We make no distinction Between Unlimited And First Head cards Ok va bene Allora dammi un mago nero In prima Da LDD Al prezzo di Un Unlimited Tanto non fai distinzioni Vero? Dio mio Dio mio Dio mio Andiamo avanti Abbiamo adesso La capra nera ride Carta carina È stata un po' Distrattata Quando è uscito Fini Però effettivamente È decente E ovviamente Ragazzi Tutto quello che è decente Ed è carino Che si può giocare Ovviamente da 8 euro Che stava È salita sui 9-10 Mettiamola così Primo playset Sì Una decina di euro E ci sta Comunque è una carta accettabile Che potete giocare Tranquillamente di side Perché dichiari il nome Di una carta Nessun giocatore Può evocare specialmente Mostri con quel nome Originale Eccetto dal cimitero In più Puoi bandire La carta dal cimitero E fare la stessa cosa Dichiarare il nome di un mostro In quel turno Nessun giocatore Può attivare effetti di mostro Con quel nome originale Quindi è una sorta Di proibizione Trappola Che puoi tirare anche dal cimitero Mettiamola così Più o meno Passatemi il termine Andiamo avanti Abbiamo Questo Eren Tu che hai la tua motivazione Perché sta roba sta salendo Perché ragazzi Da mago Sta a Neuro Però Non è la stampa da mago L'interessante È la stampa da Forse l'art Stava salendo Sicuramente anche lì Perché l'ho messo in originale Col Gustav Cannon Che è un riferimento storico A Gustav Max Vabbè È un'arma E niente Sono forti In retroformat Questo ne sono Poco Poco Più che sicuro Perché lo giocavo in Non mi ricordo Che periodo 2014 Ormai qualsiasi cosa Ragazzi abbia un anno Retroformat 2014 Sono passati dieci anni Niente Penso che alla gente Piacciano i treni Letteralmente In America Piacciano tanto i treni Non riesco a capire perché E anche l'altro Quello super corazzato Secret Penso sia salito Penso che sia una delle carte Che guarderemo dopo No È forte Non la guarderemo dopo Non la guarderemo dopo Perfetto È salito anche l'altro Il promo Dall'EDS1 Ora l'EDS2 Non mi ricordo Niente È forte Leggi l'effetto E capisci perché è salito No Allora So perché si gioca Gioco Mac Infinity Track Non è una cosa Però nel senso La motivazione sul perché È salito Cioè so perché si gioca In un mazzo Perché lo gioco Non so perché Effettivamente è salito Ma raga È il mazzo ai Salvini Quello Cioè a tutti quelli da destra Gli piace Non è un problema Andiamo avanti Abbiamo già parlato di Favoloso No Non abbiamo parlato di Favoloso Di Favoloso ragazzi Non di Corvo Non di Corvo Anche Corvo sta salendo Oh mio Dio No no La carta che prima Diamo una motivazione Ragazzi La magia dei Finsmith Search anche loro Perché anche loro Sono Demone Luce Quindi potete giocarla Pure in Favoloso E non so se i Finsmith Si possono giocare Che più Favoloso Probabilmente sì Avrò detto una cazzata Però nel senso Searchando anche questi Poi fa tutto un mappazzone Ah vabbè Da Drev ci sta Comunque È una carta che Quante print ha Questa No 7 7 7 Cazzo dico Ok Ok Per un secondo Pensavo fosse Battle Pack Però sono sicuro Oh Sì Raven esiste da Battle Pack Esiste da Quel Terminal Da due Structure Deck Mi pare E penso sia uscito anche Nell'ultimo Structure Deck Dai Dark World Non lo so No Quello no Sì SR13 Sì Quello di Dark World Che a parte quella Che è la versione economica Che ce ne sono Tipo 10.000 caricati Tutti gli altri Sono un po' spaicati Mettiamola così Anche quello da Battle Pack Sta a 1 euro Ce ne sono pochissimi Dall'Italia E ovviamente Non esistono NM Perché la gente Quando so ex Questi le carica NM È così Succede sempre Sì Da Battle Pack È quasi impossibile Che in realtà Esistano carte NM Perché te le lanciano Non c'avamo addosso È questo Poi ovviamente Dopo abbiamo anche Il Favoloso Unicorno Il Favoloso Unicorno Vabbè Era già spaicato Per altri motivi Diciamo che Se vuoi un playset American C'è Diegub Ragazzi Diegub Se volete C'è al 5 euro Secondo me è un prezzo Molto onesto Diegub c'è al playset American Sì C'è al 5 per Lo fai sparire? Ah ma di quello Pensavo Ero fermo a Raven Mi si era buggata La schermata Scusa No poverino Eren sei un bambino speciale Andiamo avanti Dai su Oh abbiamo anche Valkyrius Ovviamente Ragazzi mi spiegate Perché se sta a 2,50 2,75 3 La gente lo carica 13 euro Era short Sì ok Ma il venduto più alto È 5 euro Perché me lo carichi a 13 Cioè c'è un limite a tutto Diamola così Oh sta spiegando in tutto il mondo Ma non credo Cioè ci sta 5 euro eh Perché 5 euro è un bel pezzo in su 6 To Ma 13 euro Sono tanti eh Poi oh Può darsi che appena esce L'archetipo Mazzo incredibile Fortissimo E questo spike ancora di più Però C'è anche l'arprint comune Cioè se lo volete giocare Esiste anche un prezzo umano Poi ovvio Il finto dual terminal Tutto costa Dall'Italia poi E in italiano Questo set non l'ha Sbustato nessuno Lo pagate come l'oro Sì Esattamente Però esiste anche la versione comune Forse Sai cos'è il fatto che Forse il vero NM Dell'arsenale nascosto È un po' complicato da trovare Quindi ci sta Overpezzarlo qualcosa di più Ma lo so Che se lo compro da privato Non è mai vero NM Perché Ma neanche se lo prendi da professionale No scusa 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 Ho sbagliato Se lo compro da professionale Non è mai effettivamente vero NM Perché diciamo che Un ex Famo finta di niente Diventa NM Può succedere Sì esatto Sì sì no no ma succede Perché dai non puoi essere così fiscale Però Quando le comprano Eh no vedi C'ha un micro puntino bianco Ah è andato via Eh excellent Questo è il fatto Vabbè Poi vediamo Abbiamo anche Cruz Anche Cruz ovviamente Da H E' felice Cioè sta roba che Cioè la caricavi a 25 centesimi E te sentivi male 3,90 Cruz Cruz stava tanto Quando costava 3 euro E non le volevo comprare Cioè parte da 99 centesimi Però ragazzi Tanto il primo Cioè il primo playset Sta a 4 euro Ed è un prezzo onesto Quello di Game2Collect Assolutamente Sì sì assolutamente Ed è vero NM Cioè un piccolo shout out La roba su Effettivamente NM Eh nelle condizioni che dice Strano Avrà una lampadina Anche lui per gradare Ma allora Vorrei dire una cosa L'affermazione di prima Era molto generica Nel senso Non è che tutti i professionali Sono così Ci sono anche gente Molto competente Game2Collect Nel grading Lo è Sì esatto Diciamo che più materiale hai Più difficile comunque Gradarlo e caricarlo velocemente Quindi a volte succede Anche per quello Però la velocità La quantità Non è sempre un bene Nel senso Vabbè Dettagli Perché poi la lunetta Non ti piace comprarvi E' quello il problema Ma vabbè Andiamo con gli ultimi favolosi Abbiamo Ruby Ruda Ovviamente Che è salito In italiano Sparisce Carte italiane Non esistono Spariscono dal market Esatto E poi ricompaiono 3 mesi dopo Che costano 4 volte tanto Però allora Parte tutto Comunque anche dall'estero Costa molto eh Non Cioè è un prezzo consono Considerando che tutto è salito E poi Non stiamo parlando di una carta di arsenale Ma una carta da Star Strike Blast Set Che ovviamente è uscito Nel 2010 Dove c'è anche Hitwave Il primo novembre 2010 Mamma mia Che bel giorno Me lo ricordo Vediamo da OP18 Quanto sta Non esiste In portoghese Non esiste Da OP18 In poche parole Ragazzi Piccola Piccola info Ci sono Delle carte Che vengono aggiunte Negli UTS portoghesi Per motivi Random In portoghese In portoghese Nei pack portoghesi Sì E principalmente Perché il portoghese In Brasile Cioè in Brasile Costa troppo il gioco Inizialmente hanno fatto Delle reprinte esclusive In portoghese Perché Non Brasile non possono affordare Una copia di sta carta A 15 euro Per giocare a un for fun È Economia Questa è letteralmente Economia di base Con Amicrodat Perché fa cose Per le persone Un po' più sfortunate Può darsi Io pensavo No no Io mi ricordo Che il ragionamento Era stato quello Perché da quello che so Queste Sì sono in portoghese Ma ce ne sono talmente poche Anche in portogallo Che So che la distribuzione Principale Era per gli OTS Brasiliani Ok Infatti costa un cazzo Da noi Perché non frega niente a nessuno Nessuno sa dell'esistenza Di queste cose Lo scoprono dopo Andiamo avanti Abbiamo vabbè C'è 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 Burel Che questo si è Già giocato in passato Però è rimasto Un pochino risalito Comunque anche questa C'ha la sua reprinte Ovviamente da Hidden Arsenal Capitolo 1 E ovviamente Finta Dual Termina Ragazzi Io vorrei farlo sempre presente A quanto sta Sì Sta tipo A un euro Quello finto E vediamo quello vero A quanto sta A parte la 10 Che comunque è un buon prezzo 10 Non vorrei dire C'è Cars Mania Che ne ha 8-15 euro l'uno Che anche quello è un buon prezzo American version Sì ragazzi Non esiste Dual Terminal europeo È quello che fa No ma sai cos'è È che esiste il Dual Terminal giapponese Quindi nel dubbio Per C'è la sezione Sì ma Lei conosci un po' I fan dei Yugi Non sono molto svegli a volte Quindi meglio Sottolinearglielo American American Oh my god Stati hamburger Eh sì La gente quando legge American Parte di testa Non capiscono più niente Si sa perché Andiamo avanti Abbiamo beh anche Il Favoloso Leviatano Questo è rimasto abbastanza costante Con i suoi prezzi Un pochino è salito Però C'è la carta da un euro Un euro e trenta Un euro e cinquanta Se proprio La vogliamo mettere a tanto Tanto i venduti più alti Stanno su un e settantasei E poi Vabbè abbiamo Il Danira Questo Stessa cosa Sull'euro Ragazzi Anche questo Sempre sull'euro Tanto sono favolosi Un po' secondari Ragin Vediamo a quanto sta Ragin Stessa cosa Sull'euro e cinquanta Diciamo Quelli grossi L'abbiamo visti prima Ah Non finiscono più Abbiamo Kudabi Nel corso degli anni Hanno fatto un botto E sono favolosi eh In realtà li hanno accumulati Tutti nei primi tre Iden Arsenal Ma sono un botto 50 centesimi in uno Questo Mi ammazzo fichissimo Ah ok Ok Adesso andiamo sulla ghost E poi Esatto La rara da generation of force Ti ha sempre fatto discutere Perché prima Non solo Si giocava con O si è giocato Con i favolosi Ma era tipo una carta Per una variante di caos Nel 2011 Che non era proprio il top Perché non si era mai Masterata bene Però è L'ho usata come touch Era molto carina Vabbè Attualmente Da come ho capito Si usa come extender Per una line up Di favoloso Quindi è leggermente salita Attualmente sta ancora A prezzi umani Però in America È arrivata sul dollaro Così era Per farvelo presente E nel caso Se volete giocarlo Tiratela fuori Perché c'è monoprint E sappiamo cosa succede Quella roba con monoprint Vi ricordo Sakitama O Aratama No Aratama Quello arancione Che era leggermente salito Tipo 10 era una rara Da SH SP Andiamo con le ultime due Abbiamo Trasmigrazione tachionica Anche questa è leggermente salita In America sta sui due dollari e mezzo Questo perché Hanno annunciato un battle pack Dove probabilmente Ci saranno supporti tachionici Quando annunceranno qualcosa Di molto più specifico Probabilmente Vedremo il prezzo aumentare Tanto ci sarà tempo anche per parlarne E come ultima carta ragazzi Abbiamo Moie Moie Ovviamente Swarstall sempre mazzo interessante Unica reprint L'abbiamo da mamma Quindi Diciamo che come set Essendo stato Sbustato Discretamente Sta ancora a un prezzo Accessibile Però comunque C'ha meno print Di quello che potrebbe essere un teen Quindi Diciamo che Attualmente Si aggira su una decina d'euro Però Da come potete vedere Arriva anche a 13,50 Come vendite Quindi ragazzi Se siete interessati a Swarstall Io inizierei a farci un pensiero Perché E va bene ragazzi Il video finisce qua Spero come sempre vi sia piaciuto E ovviamente Fatemi sapere Se avete queste carte Ovviamente da dare via O se avete bisogno Di comprarle Perché Effettivamente Diciamo Qualcosina vi potrebbe servire Per poi avanti Detto questo ragazzi Ovviamente State mesi E noi ci rivediamo Domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti